No, senti un po' una cosa, io ti voglio dire una cosa, io, ma senta, senti, facciamo una cosa, se lei, se lei, se lei, se lei, se lei è il tra meno un signore, perché noi ci vediamo e parliamo un po' a quattro occhi, io, io vengo subito su, io adesso vengo al negozio, perché, perché io sono tranquillo di quello che faccio, è come io domani vado a comprare un oggetto e lo pago, a chi, a chi, a chiunque, quello che mi piace, no?